Il maltempo dalle ultime ore ha portato con sé piccole criticità anche per la viabilità retina, seppur fortunatamente non è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. La pioggia incestante ha causato problemi soprattutto per quanto riguarda i sottopassi, nei vari angoli della città si sono infatti verificati piccoli allagamenti. Ad allagarsi anche il nuovo sottopasso baldaccio dove vista la pioggia battente l'acqua ha faticato a defluire. La situazione è stata comunque rapidamente normalizzata anche se non sono mancate le polemiche tra gli automobilisti, soprattutto sui social. Sempre in provincia di Arezzo disagi poi anche a Cesa dove si sono allagate alcune strade.